Per la giornata italiana della statistica, Francesco Orabbona ci parlerà di un progetto denominato Statistica e Cittadinanza. Francesco, di che cosa si tratta? Certo, il progetto è stato realizzato nel corso dell'anno scolastico 2019 a Superaviglia e rivolto a studenti di scuole secondarie di secondo grado. L'obiettivo fondamentale del progetto è nel quale favorire tra i giorni il processo di acquisizione degli strumenti necessari alla conoscenza dei dati statistici attraverso l'analisi di un argomento specifico trattato dalla statistica artificiale. Nell'anno scolastico 2019-2020 è aderito al progetto l'Istituto V Razio Flacco di Portici che ha trattato l'argomento, l'ambiente e la sua conservazione. Il progetto è stato realizzato in un primo momento facendo incontri online con la classe di studenti e la loro docente per spiegare i fondamenti dell'ala statistica e del loro posto. I ragazzi hanno poi realizzato un questionario che è stato somministrato ad altri studenti. I risultati sono stati messi a confronto con i dati reali prodotti da alcune indagini in Fistat. Tutti i risultati, ma anche i report intermedi, sono disponibili sul portale Statistica e Cittadinanza dell'Istituto oppure sul portale della scuola. Grazie Francesco e buona giornata italiana della Statistica. Grazie a te e buona giornata della Statistica.